Ci troviamo all'interno del nostro mondo in Minecraft Education Edition e facciamo alcuni esperimenti. Allora intanto assegniamo al nostro visitatore i comandi di costruttore, quindi facciamo slash vb. Attraverso il comando summon possiamo convocare un'entità, quindi possiamo convocare ad esempio un personaggio non giocante, un NPC. E cliccando con il pulsante destro possiamo rinominarlo avendo assegnato al nostro visitatore la possibilità di essere creativo. Quindi possiamo chiamarlo ad esempio Gianni, ne possiamo convocare ad esempio un altro, quindi facciamo summon NPC e lo possiamo chiamare Sara. E possiamo andare in questa modalità. Ora se io volessi fare delle operazioni sui personaggi non giocanti, ad esempio teletrasportarli da qualche parte, in realtà il problema che ho è che non posso farlo separatamente su Gianni o Sara, ma il comando che vado ad eseguire ha impatto su entrambi i personaggi non giocanti. Cioè se facessi un execute e scegliessi quindi entità, se anche facessi name uguale, provassi con Gianni o con Sara, otterrei un errore, proprio perché il name in questo caso è il name che viene assegnato al personaggio non giocante. Quindi dovrei scrivere png per avere un filtraggio su tutti i personaggi non giocanti e quindi dire ad esempio che ci sarà un teletrasporto, non so, su la posizione 1, così. Facendo questo vedete che si sono teletrasportati entrambi di un passo, ma entrambi. Quindi se io provassi a fare questa stessa cosa andando a filtrare su Sara, otterrei un errore. Stessa cosa se provassi con Gianni. Quello che posso fare quindi è se volessi in qualche modo avere la possibilità di interagire, di far spostare solamente uno dei personaggi, è optare per i villager. Quindi quello che potrei fare in questo caso è andare a creare un villager. E nel momento in cui creo il villager posso anche assegnargli un nome. Quindi ad esempio lo chiamo Bobby. Ecco qui il nostro villager Bobby. Ne posso chiamare un altro Billy. Ecco un altro villager Billy. Non so, ne chiamiamo un altro, lo chiamiamo Rick. Quindi ho in questo caso tre villager differenti. Supponiamo ad esempio quindi di voler fare un execute, in questo caso di che cosa? Di Billy. Uno, uno. Ecco qui Billy si è spostato. Billy era questo villager. Quindi ho potuto agire direttamente su Billy, ma come vedete Rick non si è assolutamente spostato. Posso rifarlo sempre su Billy, quindi Billy lo sposto all'indietro. Optiamo adesso per il nostro code builder. Quindi andiamo a vedere come realizzare questa operazione attraverso il nostro code builder. Quindi mi creo un nuovo progetto che chiamo, lo chiamiamo ad esempio villager. e qui quello che posso andare a fare ad esempio è stabilire un nuovo comando, posso anche lasciare direttamente il nostro comando run, e vado a realizzare una cosa di questo tipo. Ho la possibilità di fare eseguire dei comandi, quindi qui nel nostro esegui posso andare a scrivere proprio esattamente la sintassi del comando di execute che ho fatto in precedenza. Quindi in questo caso potrei scrivere direttamente l'esegui, l'execute che sarebbe quello che ho fatto prima. Di che cosa? Allora qui posso fare la nostra entità, quindi name uguale Bobby. A questo punto quello che posso fare è direttamente fare un copy in cola del comando, così posso replicare esattamente il comando che ho fatto in precedenza. Quindi posso fare un execute e name uguale Bobby con questo teleport, attivando il comando quindi run. Quindi se faccio avvia, ok, adesso qui ho Sara, Gianni, i miei personaggi non giocanti, Bobby non lo trovo più effettivamente, quindi Bobby è già partito. Ok, facciamo, vediamo un po' chi è questo personaggio, Billy. Ok, facciamo un teleport di Bobby. Ecco qui Bobby che si è riavvicinato. A questo punto posso fare il run. Ecco qui, lanciando run vedete che Bobby si è portato esattamente in questa posizione, quindi vediamo che si sta muovendo Bobby. Ora posso fare una cosa di questo tipo, cioè posso andare direttamente a, ok, prendiamo il comando di pausa, ad esempio, e facciamo un ciclo. Quindi facciamo, ripetiamo per, ad esempio, cinque volte. Facciamo così, quindi lasciamo questo e mettiamo questo. Quindi al comando run, ecco qui Bobby. Ok, Bobby sta saltellando, quindi posso fare esattamente questo, oppure posso teletrasportare in un altro posto e farlo saltellare più volte, quindi posso direttamente andare a lavorare in questa modalità.